L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, la NASA e la NOAA, hanno confermato venerdì che il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato. Solo pochi giorni prima l'agenzia europea Copernicus aveva rilasciato la stessa dichiarazione. Ora ci si domanda se il 2023 è stato il picco o solo un altro passo verso un ulteriore aumento delle temperature. Nel 2023 è stato registrato un aumento di 1,45 gradi rispetto alla media preindustriale ed è stato stabilito anche il record della temperatura degli oceani. Gli scienziati ribadiscono che il cambiamento climatico non si esprime come un aumento assoluto della temperatura ma come una possibilità notevolmente maggiore di eventi estremi. Grazie